Dunque, siamo nel post partita Brescia-Sanzancaria, che era a Varchitelli, dopo tanti mesi di infortunio adesso sei tornata in campo, quali sono state le tue sensazioni? Chiaramente belle, devo dire che mi sono anche emozionata per il lungo applauso e anche per il rientro perché comunque sono stati tanti mesi e sono stati difficili, però come ho già detto prima devo ringraziare i miei compagni perché almeno se non ci fossero state loro saremmo stati ancora più i tuoi Un 3-2 che nell'arco di 90 minuti è stata una partita molto sofferta, quello che si apprende è positivo credo sia stato un risultato No, sicuramente i tre punti si servivano, è andata bene, una partita sofferta io direi nel senso che loro sì l'hanno riaperta al secondo tempo ma fino a quel punto non avevamo sofferto molto anche perché loro erano in 10, certo potevamo essere un po' più uccini che sento porta, però va bene, va bene così In questa prestazione adesso c'è la Coppa Italia contro il Tamanianco mercoledì e sabato c'è la sfida fuori trasferta con la Roma come vedi queste due partite? Eh, sarà dura mercoledì perché il Tamanianco è sempre una squadra difficile, tritosa e poi comunque giocare dopo tre giorni e poi sabato a Roma sarà dura pure lì perché loro in casa giocano meglio, però siamo qui per giocare, ce la giochiamo veramente Grazie